Ormai comprare alimenti dal supermercato non è più così sicuro. Molti prodotti sono risultati contaminati, tra questi beni che consumano in particolar modo i bambini. Da qualche ora si è diffusa la notizia relativa alla presenza di cannabis all'interno di prodotti alimentari, come patatine e biscotti al cioccolato. La segnalazione è partita dalla città di Bolzano, dove i carabinieri hanno prontamente contattato le autorità locali, per procedere ai dovuti accertamenti sulla questione. Successivamente l'Istituto Nazionale della Sanità ha diramato un annuncio pubblico, per informare i consumatori del pericolo, diffondendo un'allerta di tipo 1. Parliamo di alimenti facilmente reperibili nella maggior parte dei supermercati, motivo per cui è davvero difficile bloccarne la commercializzazione in poche ore. Le autorità hanno inoltre invitato la popolazione a fare molta attenzione, in quanto in passato casi simili si sono verificati all'estero. E diverse persone hanno riportato delle conseguenze piuttosto gravi. La presenza di THC nei biscotti e nelle patatine ha subito generato ansia e preoccupazione nelle famiglie, in quanto si tratta di beni alimentari destinati ai bambini, il cui organismo può essere esposto a vari pericoli, in caso di contaminazione. I pediatri sono stati interrogati sulla questione e loro sono altamente preoccupati dagli effetti a lungo termine che queste sostanze potrebbero comportare sulla salute dei più piccoli. Il principio attivo della cannabis, il THC, appartiene alla famiglia dei fitocannabinoidi e innesca dipendenza, nei soggetti che ne fanno un uso abituale. In alcuni casi si parla degli effetti positivi assai raccomandati per le terapie del dolore, o per contrastare l'insorgenza di alcune patologie piuttosto invalidanti. Per questo più volte si è posta la questione del THC e della sua legalizzazione, ma la questione è ancora aperta e, sicuramente, non sarà così facile approfondirla. I malati raccomandano la diffusione di questa sostanza, in quanto pare avere delle grandi proprietà antinfiammatorie, antidolorifiche e antiemetiche, ma comportare anche effetti secondari come vertigini, mal di testa e convulsioni. Ovviamente tutti gli esseri umani sono suscettibili all'azione dei cannabinoidi, ma alcune categorie potrebbero manifestare ulteriori disagi. Tra questi i bambini, i quali non hanno ancora un sistema immunitario, in grado di proteggerli dalle diverse minacce, a cui ogni giorno vengono inconsapevolmente esposti. A tal proposito, parliamo di un fenomeno noto come esposizione involontaria, dove per l'appunto il soggetto non è consapevole di quello che sta succedendo. E nemmeno di andare incontro ad un pericolo così grande. Molti genitori si sono quindi preoccupati, ma del resto è impossibile sapere con anticipo tutto quello che potrebbe farci stare male, una volta solcata la porta di casa. Qual è la vostra opinione in merito a quanto avvenuto nelle ultime ore? Eravate consapevoli in merito alla pericolosità che il TCH può avere sull'organismo umano? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione. Grazie a tutti.